Un'area recintata di 5.300 metri quadrati di vita discarica abusiva sulla quale erano stoccate circa 1.000 tonnellate di rifiuti speciali tra pericolosi e non è stata sequestrata dalla sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Taranto nelle campagne del comune di Faggiano nel contesto di un'oasi di verde circondata da una distesa di ulivi e vigneti. Due persone, padre e figlio, risultati proprietari del terreno e gestori della discarica, sono state denunciate per la violazione alle disposizioni del testo unico sull'ambiente le cui sanzioni sono state recentemente modificate e rese più severe dal provvedimento di legge sulla terra dei fuochi. Adesso rischiano la reclusione da 2 a 5 anni. All'interno dell'area sequestrata sono stati trovati materiali di risulta edile, scarti di potatura, elementi di arredo e barattoli di vernice diluenti oltre che numerosi cumuli di rifiuti in fiamme e uno scavo profondo ed esteso contenente sostanze melmose di colore verde miste ad acqua e altri rifiuti solidi pronti a essere occultati mediante l'interramento. Indagini sono in corso per accertare sia l'eventuale inquinamento dei terreni della falda acquifera sia per obbligare i trasgressori al pagamento dell'ecotassa.